Benvenuti a questa edizione del TG Sud. Avriamo con la condanna dell'imprenditore Vito Pellegrino, presidente di Sicindustria a Trapani. Gli sono stati infitti 20 mesi di reclusione, appena sospesa, e questo per un incidente sul lavoro. Ricostriamo i fatti in questo servizio di Luigi Todaro. Condannato con il rito del pazzeggiamento, Vito Pellegrino, presidente di Sicindustria a Trapani, nonché titolare dell'azienda Sudumarmi di Custonacci. La sentenza è stata emessa dal gruppo Samuele Corso in seguito al tragico incidente sul lavoro che è costato la vita Nicolò Giacalone, di 33 anni, operaio della Sudumarmi. Accusato di omicidio colposo, l'imprenditore ha avuto inflitta una condanna a 20 mesi di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena. Stessa accusa era stata mossa a Vincenzo Micieli, responsabile di cantieri della Sudumarmi, condannato a 16 mesi. Anche per lui la pena è stata sospesa. La tragedia si consumò nel luglio del 2022. Nicolò Giacalone, alla guida di un autogru, mentre percorreva la via Ragusa a Custonacci, perse il controllo del mezzo a causa di un guasto meccanico. Il veicolo uscì dalla carreggiata sfondando una recinzione e precipitando per oltre tre metri. Intrappolato nella cabina, l'operaio non ebbe scampo. Dalle indagini sarebbe emerso che Giacalone stava utilizzando il mezzo per eseguire lavori privati presso l'abitazione di Pellegrino, ma non possedeva le abitazioni necessarie per manovrarlo. L'autogru inoltre non era autorizzata ad uscire dall'area azientale. Tutte le altre notizie tra poco con la prima edizione del Tg Sud. Il titolo di questa edizione è Corruzione, chiesta condanna per Rosario Crocetta, l'ex presidente della regione siciliana, è coinvolto nel processo scaturito dall'operazione Mare Monstrum da parte dei carabinieri a Trapani. Situazione sotto controllo, stabili le condizioni del tredicenne precipitato a Trapani, dal bastione Conca la prognosi però resta ancora riservata. Autorizzata l'attivazione del depuratore dalla regione arriva l'ok per l'impianto di trattamento delle acque reflue del villaggio Anna Maria a Valderice. Le riprese di Macari, la città di Trapani, ancora una volta location principale per la serie TV Rai con protagonista il giornalista investigatore Saverio Lamanna. Per lo sport invece, occhi puntati sul Taranto, il Trapani Calcio a venerdì sera affronta appunto il Taranto, avvio di campionato complicato per le pugliesi. Per l'approfondimento invece nessuna regia unica, parliamo ancora della strage per quanto riguarda gli incendi in Sicilia, oggi affrontiamo l'argomento da un punto di vista della cronaca nera. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a sette anni di reclusione per il reato di corruzione per l'ex presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Sette anni di reclusione, la condanna richiesta dalla Procura di Palermo per l'ex presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, accusato di corruzione. Il processo che si celebra innanzi al tribunale del capologo siciliano riguarda il troncone palermitano dell'indagine dei carabinieri di Trapani denominata Mare Monstrum. Si tratta della cosiddetta tangentopoli del mare che coinvolse gli armatori Vittorio ed Ettore Morace. L'indagine è incentrata su un giro di mazzette per favorire la compagnia di navigazione Ustica Lines, oggi Liberty Lines, di proprietà dei Morace. La Procura ha chiesto inoltre le condanne per l'armatore Ettore Morace e per il collaboratore di Crocetta, Massimo Finocchiaro. Secondo la tesi accusatoria, i Morace avrebbero finanziato con 5.000 euro il movimento politico Riparte Sicilia, fondato da Rosario Crocetta. Quest'ultimo in cambio avrebbe esercitato pressioni sulla funzionaria Dorotea Piazza, subentrata alla collega Salvatrice Severino e al collega Fulvio Bellomo, che al loro insediamento avevano bloccato tutto e consegnato ai PM gli atti decisivi per le indagini per implementare i servizi di trasporto e favorire l'Ustica Lines. I file riservati sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Il carabiniere Luigi Pirollo, finito sotto processo, ha chiesto la messa alla prova. Avrebbe cercato di vendere al fotografo Favorizio Corone e al giornalista Moreno Pisto documenti riservati sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Ora il processo a carico dell'ex consigliere comunale di Mazzara del Vallo, Giorgio Randazzo, è stato trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di Marsala. Frattanto, sempre a Marsala, è in corso il processo a carico del complice del consigliere, il carabiniere Luigi Pirollo. Quest'ultimo, secondo l'accusa, accedendo illegalmente al server dell'arma, avrebbe trafugato 786 file riservati con informazioni sulle indagini sul capo mafia castelvetranese. Pirollo ha chiesto la messa alla prova, istituto che in caso di esito positivo estingue il reato. Il consigliere e il carabiniere avrebbero proposto l'affare a Fabrizio Corona promettendo gli scoop clamorosi in cambio di 50.000 euro. Il fotografo però, dopo aver dato un'occhiata al materiale, è compreso che si trattava di file top secret, ha denunciato tutto. Pirollo, che all'epoca finì ai domiciliari, è indagato per accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Stabili le condizioni del 13enne caduto a Trapani dall'abbazione Conca. La prognosi rimane comunque ancora riservata. Le condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata. Il 13enne caduto dal bastione Conca a Trapani è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei bambini di Palermo. Il ragazzo ha subito la frattura del bacino ed ha riportato lesioni interne. La situazione però sembra essere sotto controllo. Frattanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto alle mura di Tramontana. Il minore era in compagnia di un amichetto quando è precipitato dal bastione Conca l'antica fortificazione sopra le mura realizzata nel 500 a difesa della città. È finito sulla scogliera sottostante Dopo un volo di oltre 10 metri scattato l'allarme, un'ambulanza del 118 ha provveduto ad accompagnare il 13enne al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Dopo una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza, i medici hanno disposto il trasferimento nel capoluoco siciliano. Caccia arriva alla risposta del Tar Sicilia che dice che nessuno stoppa la caccia nella regione respingendo il ricorso degli animalisti. Il presidente della terza sezione del Tar di Palermo ha respinto la richiesta di misura cautelare proposta da Lega Ambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste che avevano impugnato il calendario venatorio della regione siciliana 2024-2025. Più nel dettaglio le associazioni ambientaliste, Lega Ambiente Sicilia, Associazione Italia per il World Found for Nature e dunque WWF Italia, l'ente nazionale protezione animali Ollus, la Lega per l'abolizione della caccia, lamentando lo stato di emergenza e crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della regione siciliana, hanno presentato un ricorso per ottenere l'annullamento dell'apertura della stagione di caccia già avviata regolarmente a partire dall'1 settembre 2024. Il presidente del Tar Palermo tuttavia ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l'apertura anticipata della stagione venatoria 2024-2025, in quanto residuerebbe solamente la giornata dell'11 settembre, non possono considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare, potendosi invece ormai attendere la celebrazione dell'udienza in Camera di Consiglio, fissata per la data del 25 settembre 2024. Tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco informativo. In questa parte di TG ci occuperemo dell'attivazione del depuratore di Valderice, quello nel villaggio Anna Maria e dopo andiamo a vedere le riprese della stagione numero 4 di Macari con Trapani ancora una volta protagonista e infine lo sport con gli occhi puntati sull'incontro di venerdì sera fra il Taranto e il Trapani Calcio. C'è un ulteriore passo in avanti per l'attivazione del depuratore di Sant'Andrea in incontrata Anna Maria a Valderice ed anche per la realizzazione della rete fognaria nella stessa località balneare frazione di Valderice. Buona agia, vediamo. Ieri mattina al comune di Valderice è arrivato il decreto autorizzativo dell'assessorato regionale energia, dipartimento acqua e rifiuti per il primo avvio del depuratore di Contrada Anna Maria. Lo ha annunciato sui social sindaco di Valderice Francesco Stabile che si è soffermato sulle lungaggini burocratiche determinate dalla presenza di alcuni nuclei abitativi. Ha spiegato il primo cittadino all'interno della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta e pertanto prima del rilascio autorizzativo al funzionamento l'assessorato regionale ha richiesto un particolare studio definito o d'origine dal quale è emersa la necessità di realizzare un'adeguata copertura delle vasche di raccolta e di depurazione. Per la copertura delle vasche il comune di Valderice ha ottenuto la copertura finanziaria dell'intervento del commissario straordinario unico per la depurazione. L'intervento in questione ha trovato copertura finanziaria all'interno dell'accordo di programma Stato-Regione della delibera CIPES lavori che ammontano ad oltre 300 mila euro e al fine di accelerare le procedure del primo avvio continuato stabile è stato proposto con esito positivo l'installazione di un filtro per consentire l'immediata attivazione del depuratore nell'attesa dei necessari lavori di copertura. In queste ore ha poi aggiunto il sindaco di Valderice l'amministrazione comunale sta continuando a lavorare e oggi insieme all'assessore lavori pubblici Giuseppe Cardella Francesco Stabile sarà a Palermo per sollecitare l'avvio del secondo stralcio che prevede la realizzazione delle fognature di monagia. La notizia nell'autorizzazione da parte della Regione all'attivazione del depuratore è arrivata alla vigilia dell'audizione in Commissione Ambiente fissata per oggi chiesta dall'onorevole Cristina Ciminisi che ieri commentando l'annuncio dato dal sindaco Stabile via social si è soffermata sulla singolare coincidenza rinviando all'incontro di oggi gli approfondimenti per capire meglio se siano in parte stati risolti i problemi. Dopo le richieste di alcuni cittadini già nel mese di aprile scorso mi ero determinata a chiedere l'audizione in Commissione. Sono felice, ha dichiarato Ciminisi, che il sindaco Stabile abbia potuto comunicare che è tutto risolto. Bene per la comunità Valdericina e in particolare per la vasta area del villaggio Anna Maria che finalmente potrà vedere l'entrata in servizio del depuratore. La parlamentare regionale spera che siano stati davvero superati i problemi che per mesi avevano fermato l'attivazione dell'impiando annunciando nel corso della riunione di oggi della Commissione Ambiente l'intenzione di volere capire meglio le ragioni del ritardo e soprattutto lo stato dell'arte dell'iter amministrativo e tecnico assicurando che seguirà la vicenda. Fino a quando ha concluso l'onorevole Ciminisi il depuratore non opererà a regime perché degli annunci, se non sono seguiti dalla concretezza, i cittadini non se ne faranno nulla. Torniamo ad occuparci del caso che ha riguardato l'ATM, l'azienda di trasporti municipalizzata di Trapani. I sindacati prendono posizione sui presunti comportamenti intimidatori denunciati dall'azienda. Sentiamo il servizio. Dopo la denuncia di ATM-SPA a Trapani circa il clima di tensione che vigeva fra i dipendenti da qualche tempo con episodi di bullismo e vessazioni regolarmente denunciate dagli organi competenti, oggi arriva la presa di posizione dei sindacati. Una vicenda, quella denunciata dalla direzione generale dell'azienda di trasporti pubblici trapanese, che sarebbe diventata insostenibile dopo il rinvenimento di tre mazze con la scritta Per chi non sciopera. Un contesto di paura alimentato da un gruppo di dipendenti che, secondo denunce anonime, avrebbe minacciato i colleghi per forzarli a scioperare. L'azienda ha, quindi, avviato provvedimenti disciplinari e ha presentato una denuncia alla procura con prove tra cui foto delle mazze e messaggi intimidatori. Intervengono sulla vicenda i segretari provinciali delle principali sigle sindacali Anselmo Gandolfo CGL, Rosanna Grimaudo Cisle, Rosario Gentile, Faisa Cisal e Mario Parrinello UGL. Se ci sono dei colpevoli è giusto che vengano perseguiti perché atti del genere vanno condannati senza riserve. Tuttavia avvertono che l'azienda non dovrebbe estendere le accuse indiscriminatamente. Molti lavoratori sono stati, infatti, coinvolti in contestazioni disciplinari di altra natura legate all'invito a non fare straordinari. I sindacalisti sottolineano inoltre che il clima di tensione presente in azienda non è dovuto soltanto a comportamenti intimidatori tra i dipendenti ma anche a scelte aziendali discutibili. Questo clima, proseguono, è stato alimentato da decisioni aziendali come la disdetta di accordi trentennali, il mancato pagamento delle ferie a partire dal primo marzo, la mancata osservanza dei tempi di riposo e di guida per gli autisti e dalle contestazioni sollevate contro alcuni dipendenti per motivazioni irrilevanti che si sono poi concluse. Con nulla di fatto. Infine, concludono i sindacalisti, è necessario ripristinare un dialogo costruttivo tra le parti sociali. Solo così si potrà migliorare il benessere dei lavoratori e la qualità del servizio offerto ai cittadini di Trapani. L'assessore regionale al lavoro, Nuccia Albano, lancia un appello ai comuni per la stabilizzazione dei lavoratori ASU. Un appello ai comuni che ancora non hanno provveduto a presentare la domanda per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché dei lavoratori ASU della regione siciliana. A lanciarlo è l'assessore regionale al lavoro, Nuccia Albano. L'assessore ha invitato gli enti locali a completare l'iter burocratico entro il 15 settembre, termine ultimo per procedere alla regolarizzazione delle posizioni lavorative. Le richieste presentate oltre tale data, spiega Albano, potranno essere finanziate soltanto a partire dal 1 settembre dell'anno successivo. Sarebbe veramente un'occasione persa per i comuni a corto di personale, ma lo sarebbe anche per i lavoratori che dopo 30 anni di precariato sperano in una soluzione lavorativa definitiva. Le amministrazioni che possono assumere circa 3.000 lavoratori sono gli enti locali come i comuni, i liberi consorsi comunali, le città metropolitane, ma anche le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere. La misura del contributo in favore degli enti sulla base delle risorse finanziarie stanziate può arrivare per ogni lavoratore ASU stabilizzato fino a un massimo di 19.180 euro annui. Aspico che entro il 15 settembre gli enti locali provvedano ad ultimare l'iter burocratico al fine di assicurare una stabilità occupazionale e così continuare ad avere personale già con una professionalità acquisita al quale verrebbe garantito un futuro, conclude Albano. Settimane fa i lavoratori ASU che operano all'interno dei beni culturali della Sicilia avevano protestato per diversi giorni. La richiesta era chiara, volevano conoscere le intenzioni del governo regionale sulla loro situazione lavorativa. Adesso dunque bisognerà solo aspettare. A Trapani ricominciate le riprese della serie TV Macari. Le indagini del giornalista investigatore Saverio Lamanna andranno in onda nel 2025. Chiara Conticello, curiosa, è andata a vedere stamattina. Un grande successo quello della serie TV Macari che la RAI ha confermato per la quarta stagione. Anche quest'anno dunque Trapani ritorna a essere un set cinematografico ed è pronta ad accogliere le avventure del giornalista investigatore Saverio Lamanna. Sicuramente siamo molto contenti di essere di nuovo qui. La serie come sapete sta andando molto bene. Palomare è contenta di lavorare in Sicilia, soprattutto a Trapani. Era una scommessa grossa. Quarto anno direi tutto la grande. Abbiamo cominciato bene. Il meteo è un po' in movimento ma questo splende. Vediamo le Egadi, vediamo il mare. Siamo felici e sicuramente sarà un successo anche quest'anno. Tra l'altro questa ambientazione dove ci troviamo oggi era una delle prime location della prima stagione. Brava, esatto. È partita praticamente la prima stagione. Avevamo una scena molto importante a ricerca di un bimbo che sarà smarrito. Noi partiamo sempre dai romanzi di Gaetano Savatteri che ci ha introdotti all'interno di questo territorio. Anche quest'anno siamo partiti da lì e sicuramente succederanno un sacco di cose molto interessanti da seguire sicuramente. Andremo in onda 2025 quando ancora non ve lo so dire ma presto sicuramente. Diverse le location scelte in provincia con una predilezione però per la città di Trapani. Quest'anno stiamo continuando a promuovere ovviamente la provincia di Trapani. In particolar modo ci concentreremo proprio nel comune di Trapani oltre ovviamente a San Vitolo Capo con Macari. È una delle cornici che avrà molto risalto in questa quarta edizione sicuramente anche la parte di Bustonage con il Monte Cofano protagonista e tutto il suo litorale. In questa piazzetta abbiamo ambientato una scena cruciale di una puntata di Macari 1. Siamo tornati anche perché la zona di Torre dei Ligni per i telespettatori che poi seguono la fiction è il centro di Macari che rappresenta appunto una borgata marinara. Sin dall'inizio abbiamo scelto questa zona antica di Trapani per rappresentare il paese di Macari e tutto il contorno ovviamente del mare che continua a collegare la casa di Saveli e tutte le altre ambientazioni. Quindi appuntamento al 2025? Sì, appuntamento al 2025 e mi auguro che continuerà il successo delle prime stagioni. Diciamo la Rai un po' come tutti noi ormai tengono particolarmente a questa che è una delle fiction più seguite in assoluto a livello italiano. Eccoci agli appuntamenti sulla nostra emittente, sul nostro gruppo editoriale. Alle 20.30 manderemo in onda il primo incontro del Precision Tournament, quello fra Partizan Belgrado e Dertona Basket. Alle 23 invece spazio al match disputato fra Dertona Basket e Ryukyu e Golden Kings, quello per stabilire il terzo e quarto posto del Precision Tournament. Quindi ripeto, alle 20.30 il primo e poi alle 23 il secondo. Adesso vi lascio allo sport. Apriamo con il calcio. Venerdì la quarta giornata del campionato di Serie C. Il Trapani giocherà a Taranto. La partita si disputerà a porte chiuse e scopriamo però perché. Uno stadio deserto si è già visto in occasione della seconda giornata di Serie C. Taranto Latina si è infatti giocata a porte chiuse in seguito a quanto accaduto nel ritorno del primo turno play-off dello scorso anno. La tifoseria pugliese, ospite allo Stadio Menti di Vicenza, è stata punita dal giudice sportivo per lancio di petardi di elevata intensità, 5 fumogeni e un seggiolino sul terreno di gioco. Sanzione di 15.000 euro per la società rosso-blu e Stadio Erasmo Iacovone chiuso per le prime due giornate casalinghe del Taranto. Il Trapani giocherà dunque a porte chiuse la gara di venerdì sera contro i pugliesi che nel frattempo pensano anche a migliorare il proprio impianto. Il nuovo Iacovone vedrà una spesa di 59.750.000 euro per il restyling. Una scelta per permettere all'impianto di diventare funzionale e fruibile per 365 giorni l'anno grazie alle numerose attività che potrà ospitare al proprio interno, oltre ad una capienza totale maggiorata che avrà 21.000 posti a sedere. Il progetto è stato presentato lo scorso giugno in vista dei giochi del Mediterraneo che la città di Taranto ospiterà nel 2026. I lavori inizieranno presumibilmente nel mese di novembre e dureranno circa 18 mesi, motivo per cui è probabile che il club pugliese andrà a giocare altrove fino al completamento dei lavori. E domani alle 12 ci sarà la presentazione alla stampa di mister Sasa Aronica. Sarà l'occasione anche per parlare della gara contro il Taranto di Verdi sera. La vittoria contro il Crotone e Gli Eval sarà conferma in panchina fino al termine della stagione. È la grande occasione per Salvatore Aronica che sabato scorso si è affacciato tra i grandi dopo le esperienze in eccellenza con il Misilmeri e Indy con il Savoia, oltre ai già noti trascorsi nel settore giovanile Granata. Domani la presentazione ufficiale alle 12 presso la sala stampa del provinciale. Con lui ci sarà anche il direttore sportivo Andrea Mussi. Aronica, per gran parte della sua carriera da calciatore, ha militato in palcoscenici prestigiosi come la Serie A. È stato uno dei punti fermi del Napoli di Mazzarri che benissimo fece sia in campionato che in Champions League. Il suo palmares con gli azzurri conta una Coppa nel 2011-2012. Passata agli annali, anche la miracolosa salvezza in a con la regina partita con una penalizzazione di meno 15 punti, poi diminuita a meno 11 in seguito alle vicende legate a Calciopoli. Carisma ed esperienza maturata in quasi 500 presenze in carriera a disposizione del suo trapani che si prepara al Taranto. Pugliesi hanno iniziato non senza qualche difficoltà. Appena un punto dopo tre giornate per mister Gautieri che ha rilevato ziolino Capuano ad inizio annata. Seconda peggior difesa e secondo peggior attacco in questo avvio di torneo, solo l'Altamura, ultima in classifica, ha fatto peggio. Un'ipotetica vittoria per i Granata significherebbe un'ulteriore iniezione di fiducia e guardare con ottimismo ai prossimi impegni dopo un inizio difficile. Arriva questa comunicazione dal Trapani Calcio. Il prossimo 22 settembre l'FC Trapani 1905 giocherà in casa contro la Juventus Next Generation alle 16 e 15. Alle 18 e 15 invece la Trapani Shark ospiterà a Trapani, al Palas Shark, l'Olimpiaco in una amichevole di prestigio. A proposito di questo la società Sportinvest ha deciso di creare una promo biglietti. Chi acquisterà il tagliando di una delle due gare avrà diritto al 50% di sconto sul biglietto intero dell'altra gara in programma in qualsiasi settore. Tutte le maggiori info le trovate sui siti sia dell'FC Trapani 1905 che in quello della Trapani Shark. A proposito di Shark, ieri a Sport Sud d'estate, è stato ospite uno dei volti nuovi della Trapani Shark. Parliamo di Isaac Jenkins che è il Player Development Coach. Isaac Jenkins è uno dei volti nuovi della Trapani Shark. Jenkins ricopre il ruolo di Player Development Coach, un allenatore che si occupa del miglioramento individuale dei giocatori dal punto di vista tecnico-tattico sul campo e con il supporto di analisi video. Specifico sullo sviluppo del giocatore all'interno dei nostri sistemi sia offensivi che difensivi, però tutti assieme. Molte cose sono individuali e sul campo nel giornaliero e usiamo inoltre video che è un ottimo modo per confrontare il giocatore per fargli capire alcune situazioni che magari lì per lì nella partita è troppo intenso. Magari sul campo con i suoi compagni, sono solo i suoi compagni, più noi lo facciamo all'interno di piccoli workout durante la settimana. Quindi, oltre al lavoro fisico, c'è anche un aspetto psicologico da curare. Sì, corretto. Penso che comunque la stagione di un giocatore sia sempre ad alti e bassi, è duro stare sempre su alti e quindi qualsiasi cosa si può fare per tenere questo giocatore coinvolto. Sempre per migliorare, guardando la sua fase di miglioramento anche in giornata no, io penso che sia veramente importante. Siamo in tanti, però se io riesco a dare la mia pedina per aiutare chiunque, volentieri. Jenkins ha tracciato anche una sua prima analisi sul gruppo che ha trovato alla Trapani Shark. Un gruppo di professionisti, amano quello che fanno, che penso sia la prima cosa necessaria, e un gruppo coeso dall'inizio. Già in ritiro ci si vuole bene, si sta bene in compagnia, non è solo l'allenamento, facciamo che sia, andiamo a fare il bagnetto al ruscello, andiamo tutti a cena, facciamo questa cosa qua, guardiamo questa partita. Quindi all'interno dei giocatori li ho visti bene assieme. Come staff e squadra penso anche, quindi è una buona partenza. Continuiamo il nostro focus sulla questione delle emergenze e incendi. Ogni giorno fino a venerdì vi daremo ampio risalto sulla tematica con le inchieste e i riscontri che abbiamo verificato appunto con il nostro lavoro di redazione. Vi ricordo che sabato sera ci sarà poi il condensato di questi approfondimenti in una trasmissione, la Sicilia sotto la lente, speciale Tg Sud, che appunto ripercorrerà un pochino tutte queste tappe. Oggi affrontiamo la tematica da un punto di vista della cronaca. Nessuna regia unica, così abbiamo intitolato questo servizio, perché è quanto emerge dalle indagini per fare luce sugli incendi che devastano il patrimonio boschivo della Sicilia. Sembrano la gran parte frutto di azioni individuali. Il servizio è di Luigi Todaro. Una vera e propria task force, composta da carabinieri, polizia e uomini della forestale, è impegnata nell'azione di repressione contro il fenomeno degli incendi boschivi in Sicilia. Fenomeno però che, nonostante l'incazzare della magistratura e delle forze dell'ordine, continua ad essere ben radicato, colpendo indistintamente l'isola. Partendo dalla circostanza che il 90% dei roghi che divorano la macchia mediterranea e di natura dolosa in tutta la Sicilia l'attività di monitoraggio, in particolare nelle zone più sensibili, ossia in quelle più esposte al rischio di incendi, anche con l'ausilio dei droni. Chi applica il fuoco però sa come muoversi, sa come agire per arregare maggior danno possibile e di solito sceglie sempre per entrare in azione le giornate di Scirocco. Che dietro gli attacchi al patrimonio naturalistico vi possa essere un'unica regia occulta, al momento non ci sarebbero riscontri. Gli arresti eseguiti dimostrano al contrario che dietro gli incenti si celano azioni individuali di piromani che perseguono obiettivi ed interessi personali. Non per questo però le loro incursioni sono meno pericolose, anche se scepre da una strategia e pianificazione comune. Era ad esempio un cosiddetto cane sciolto, il 62enne di Montevago, che lo scorso 4 agosto è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno sorpreso mentre stava incendiando un appezzamento di terreno di contrata a Giaccheria, a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Il rogo è stato domato prima che si estendesse dagli uomini del corpo forestale. Il 62enne, dopo aver appiccato la scintilla iniziale, ha cercato di dileguarsi ma è stato bloccato dai militari dell'arma. Due mesi prima invece i carabinieri della stazione di Ciminna, in provincia di Palermo, hanno arrestato un pastore di 24 anni. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari dell'arma hanno notato del fumo alzarsi da un'area collinare. Utilizzando un binocolo sono riusciti ad individuare i movimenti di un pastore della zona che si spostava per appiccare il fuoco in più punti fino ad incendiare una porzione di macchia mediterranea di oltre 15.000 metri quadrati. Sempre i carabinieri lo scorso mese di giugno hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere firmata dal GIP di Palermo nei confronti di un 26enne accusato di disastro ambientale colposo e incendio boschivo colposo. L'attività coordinata dalla procura è stata condotta dal nucleo operativo e avrebbe consentito di individuare il responsabile dell'incendio che nel luglio del 2023 aveva distrutto circa 500 ettari di vegetazione, di cui quasi 600, nella riserva naturale orientata di Capo Gallo a Palermo. L'indagato è stato rintracciato grazie ai filmati acquisiti dai carabinieri della stazione di Partanna, Mondello e l'attività di intercettazione telefonica e ambientale portata avanti dai militari forestali del centro anticrimine Natura. Nel Trapanese, territorio dove gli incendi hanno devastato buona parte del patrimonio boschivo, fece clamore l'arresto eseguito nel 2023 di un operaio stagionale della forestale, un 56enne di Alcam accusato di aver appiccato un incendio incontrato a costa che ha mandato in fumo 12 ettari di vegetazione con il rischio di far esplodere un impianto di carburanti lambito dalle fiamme. Assieme al forestale vendono arrestati per altri incendi anche un uomo di 51 anni di Custonaci e un pastore di 49 anni di Paceco, quest'ultimo con l'accusa di aver appiccato l'incendio in due punti della riserva naturale delle saline di Trapani. Ma a fare ancora più clamore furono le parole del procuratore Gabriele Paci che nel corso della conferenza al comando provinciale dei carabinieri ha criticato regioni e denti locali senza controlli, ha detto, la seda vinta ai piromani già in partenza, insomma l'attività di repressione da sola non basta per arginare il fenomeno degli incendi buschivi.